Al 3, al 2, al 1, vai! Eccoci qua, finalmente a Vietri sul mare. Marina di Vietri che è diverso perché altrimenti quelle di Vietri si offendono, si arrabbiano. Anche Vietri è bellissima. Siete tutti belli e bravi, però il mare... Ah beh, che ci parla anche il mare che sta su, è bello. Il mare che sta su, è bello. Sì, sì, c'è anche il mare su. Siamo qui perché? Perché presenteremo La Maledizione dell'Acciaio, questo libro ideato da noi, ma scritto da lui. Vietri Ciccariello, grande autore, ricco di fantasia e di ampio parcheggio. Soprattutto ampio parcheggio, forse solo ampio parcheggio. Sì, sì. Ed è questo libro che parla di Bagnoli, parla di Massimo Mancini che è il nostro protagonista che combatte con delle armi molto particolari contro questo eco-mostro. Mostro, 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 mostro. Esatto, perché è un eco-mostro. Anche qui è forte la presenza del mare, quindi siamo molto vicini. No, no, no. Ah, così, hai chiuso così. Hai truccato così. Da Marina di Metri è tutto, la linea di Striscia.